Ancora, e qui è molto interessante perché è ancora una tecnica nuova, è l'arte digitale, non dico nuova, è nemmeno nuovissima, ma insomma c'è una figura femminile, luda, bianca, armonica, con l'armonia delle forme, che viene ad essere in questo caso fissata su quella che è un grande impianto, che è risalita, nero, grigio, in modo da poter far sì che quelle che si definiscono le belle forme abbiano un loro significato, è una forza ulteriore d'attrazione.